Da questa mattina al camping classe di Liglio di Dante si lavora per mettere in sicurezza o eliminare ciò che resta del ristorantino andato in fiamme la scorsa notte. Un incendio che potrebbe avere una matrice dolosa, appiccato per colpire indirettamente gli amanti del naturismo che frequentano il campeggio. Ne sono convinti sia il proprietario del camping, Roberto Giampretti, che il presidente dell'ANER, Jean-Paul Marcacci. Escludo un cortocircuito, qui era tutto chiuso da mesi, assicura Giampretti. Se qualcuno avesse voluto danneggiare me o la mia attività avrebbe dato fuoco alle casine mobili oppure alla struttura all'ingresso del camping, non di certo al ristorantino. L'unica ipotesi è che volessero colpire i naturisti e il festival che si terrà qui tra poche settimane. Rimuovere tutto il bruciato per poi iniziare la costruzione nuova appena possibile. Secondo noi può essere stato doloso oppure casualmente un cortocircuito se... Ma insomma non lo so, non lo so veramente perché secondo noi la corrente non c'era. Quindi senza corrente e fatica che un innesco... Insomma, per accendere un fuoco ci vuole un fiammifero, vero? Una delle ipotesi appunto più accreditate è che si sia voluto colpire proprio questo bar, che è quello che serve l'area naturista del camping, anche in vista del festival che ci sarà breve. Sì, questa è la supposizione perché veramente credo che se qualcuno volesse far male a Roberto Giampretti o al camping classe e così, insomma, le case mobili forse era un oggetto molto più semplice da incendiare con un danno molto molto superiore. Una stima dei danni al momento è stata fatta? Non lo so ma ci vorranno circa 300-300-400 mila euro. Credo che sia quello il presto per ricostruire tutto quello che c'era, con tutti i macchinari, come puoi vedere lei, insomma, tutto è dato bruciato, non c'è nulla di salvabile. Tra l'altro una struttura che era stata fatta nuova, resa norma l'anno scorso, cioè proprio per la stagione 2016, come da prescrizioni poi del progetto che vi ha presentato i visi del fuoco per la messa norma di tutto il campeggio, insomma. Ora si lavora, si lavora comunque per cercare di partire con la stagione estiva 2017 con il bar agibile e recuperato. Sì, sperando appunto di riuscire, perché apriamo l'8 aprile, quindi naturalmente i clienti che verranno l'8 aprile di non vedere tutto questo vendidio che c'è o tutto quello che c'è, sperando di riuscire a ripristinare il tutto per le date per la stagione estiva, insomma. Abbiamo annunciato lo svolgimento del Cercival Naturista entro questa struttura appunto naturista, ripeto, una delle pochissime strutture naturiste che esistono in Italia, è un'eccellenza vera per la costiera romagnola. appena annunciato da qualche mese, è cominciato il battaggio pubblicitario con molto successo, tanto che converranno moltissime persone fra il 25 e il 28 di maggio per il Cercival Naturista, ebbene, guarda caso, si va a fuoco proprio la struttura predisposta e preposta a ospitare questa manifestazione. Quindi noi non è che abbiamo la certezza, perché quella non potranno che averla gli inquirenti, ma abbiamo un fondato sospetto che si tratti di un'azione dolosa proprio per evitare lo svolgimento di quest'altra manifestazione e soprattutto per cercare di allontanare dalla zona storica i naturisti, i nudo naturisti che sempre invece stanno da oltre 40 anni nella zona, costituisce il loro campo base. Ecco, questo è il nostro timore, più che certezza. Abbiamo timori che sia un'azione spregevole ed intimidatoria nei nostri confronti. Ma ne avete mai subito in passato? No, assolutamente no, smentisco mai. Questa struttura è sempre stata, è sempre vissuta nella pace totale e nell'armonia. È proprio una delle caratteristiche, la pace e l'armonia all'interno del mondo naturista. Abbiamo avuto anni fa, quando, diciamo così, ai tempi della legge regionale che autorizzò il naturismo anche a Rito di Dan, avevamo avuto da parte di locali un po' infastiditici dalla nostra presenza alcune minacce che si erano sostanziate nel farci trovare cocci di bottiglia a guzzi sulla spiaggia come monito a che non la dovessimo frequentare. Ma tutto lì, sicuramente smentisco che vi siano state mai minacce al campeggio, ai campeggiatori e al turismo naturista. Anzi, per l'Iro di Dante è la risorsa, si può dire, ormai unica, in quanto la presenza nostra è il rapporto di 1 a 9. I turisti che noi definiamo tessili, c'è quei pochi che a Rito di Dante stanno nella parte tessile, rispetto a noi naturisti, il rapporto è in estate 1 a 9, in inverno, nelle stagioni intermedie, non in inverno, nelle stagioni intermedie 1 a 5. E questo per dati che sono anche ricavabili tranquillamente, fino a che la Comune di Ravenna ha avuto un ufficio che faceva il rinievo di questi dati. Poi dopo, non già più rilevati, ma questi sono gli ultimi dati ufficiali che abbiamo. Io le posso solo dire, come Presidente dell'Associazione Naturista Emiliano Romagnola, c'è che i sabati e domenica di estate la presenza è sempre mai inferiore a 1.500 persone nel tratto che ci è, diciamo così, assegnato, ma non ufficialmente assegnato, nel tratto da noi frequentato. Quindi il turismo a livello di Dante è una cosa serissima, forse l'unico strumento di turismo sul quale il piccolo borgo vive.